ottimo benissimo allora zoom ci ha dato l'ok perché non so se anche voi sentite eh nelle cuffiette la voce preimpostata buon pomeriggio a tutti benvenuti su tutored bentornati eh sono Giuseppe mi occupo di di esperienze online e l'esperienza online di oggi eh la realizziamo con una professionista che ha un bel po' d'esperienza nella nella materia che che tratteremo oggi parlo di Eva Visentin ciao Eva benvenuta di nuovo ciao a tutti brand marketing manager in RCS che ci racconterà come si costruisce un piano di comunicazione marketing non di noccioline parliamo del giro d'Italia numero 100 Eva sei pronta? Prontissima prontissima perché come dicevamo prima è di fatto materia di tutti tutti i giorni e quindi poi sarà appunto lei stessa raccontarci la sua giornata tipo e e vi darà qualche consiglio utile prezioso per chi appunto vuole intraprendere una carriera in questo in quest'ambito in questo settore ragazzi vi ruberò giusto un minuto perché magari qualcuno di voi è per la prima volta qui su tutored e quindi ci tengo ecco anche a raccontarvi un po' quello che siamo e quello che facciamo vi condivido il mio schermo ditemi fatemi un cenno con la testa se lo vedete ottimo benissimo allora io so che ad esempio Valentina l'ho già vista in altre esperienze conosce già tutored però magari qualcuno di voi no e quindi vi dico che siamo il punto di incontro digitale tra studenti neolaureati e aziende perché perché collaboriamo con più di 100 aziende che pubblicano su tutored annunci di lavoro per neolaureati quindi soltanto opportunità per chi si è appena tolto la corona da loro tra l'altro alcuni stagion o curricolari quindi per chi sta ancora studiando e quindi se cercate un posto dove trovare lavoro se siete appena uscite dall'università tutored è il posto giusto a fianco agli annunci di lavoro abbiamo anche le esperienze online quindi dirette in cui coinvolgiamo professionisti come come va per farci raccontare direttamente da loro quello che di fatto vivono tutti i giorni quindi farvi raccontare quelli che sono ruoli professionali programmi che vengono utilizzati in azienda competenze che sono necessarie per intraprendere un determinato percorso quindi è un po' un mix di tutto quello che si fa durante una giornata lavorativa e di fatto lo raccontiamo a chi sta per intraprendere questa strada io qui ecco vi faccio vedere un ritaglio del nostro sito con il profilo delle aziende che vi dicevo prima sono sono un bel po qui ecco una panoramica un po' più ampia poi ovviamente ogni azienda ha i propri annunci di lavoro e le proprie esperienze online e poi ci abbiamo anche una bella app che sviluppa il nostro team tech magari qualcuno di voi ce l'ha qualcun altro invece dovrà scaricarla di qui di qui in avanti ve la consiglio perché appunto trovate poi lì tutti i nostri contenuti e infine abbiamo un canale telegram in cui pubblichiamo insomma un po' quello che facciamo tutti i giorni lo pubblichiamo in anteprima quindi cerchiamo sempre di raccontarlo a chi ci accompagna poi tutti i giorni sul nostro canale eva io mi interrompo e interrompo anche la condivisione ultimi trenta secondi per ricordarvi magari qualcuno di voi utilizza zoom tutti i giorni qualcun altro no vi dico che è molto semplice perché c'è la chat dove ho già visto un commento di di valentina buon pomeriggio buon pomeriggio anche a te valentina e ovviamente a tutti voi e lì sarà insomma il posto dove inserire le vostre domande per per eva il consiglio che vi voglio di inserirle comunque anche durante l'intervento della nostra professionista perché tanto poi le recuperiamo sia durante che al termine della diretta e poi importantissimo quindi questa cosa dovete ricordarla perché se cliccate in basso su reazioni come sto facendo io adesso alzate la mano e io vi do accesso al microfono così eva sente la vostra voce e le domande le potete fare dal vivo anche se non siamo in presenza eva ti lascio ti lascio il palco ti ringrazio tantissimo per essere qui come ti ho detto nella mail sono curiosa di ascoltarti quindi oggi sono moderatore ma anche partecipante grazie ciao a tutti i ragazzi come diceva giuseppe io vi racconto un po di cose vi racconto il mio percorso come sono arrivata ad assumere questo ruolo che ho attualmente e vi racconto un po anche qual è il mio lavoro e su alcuni dei progetti particolari su cui ho lavorato in questi anni io lavoro nell'ambito degli eventi sportivi per cui tutto ciò che la mia esperienza è molto calata all'interno degli eventi soprattutto sport il mio prodotto è l'evento per cui ci sono delle assonanze che possono valere per qualsiasi altra figura di marketing altre cose che sono particolarmente specifiche quindi ve le racconto sentitevi liberi di intervenire vi prego nel senso che sono abituata a fare lezioni in cui ci si insomma si si interagisce e voglio sapere un po un po le vostre non posso fare domande aperte e tutti rispondete perché risulterebbe complesso con i microfoni però insomma abbiamo parlato anche dei sondaggi per capire un po qual è qual è il vostro status quanto conoscete alcune cose e così insomma cerchiamo di rendere interattiva la prossima la prossima retta insieme tra l'altro eva scusami se ti interrompo ti dico che la community tutored all'inizio magari appare timida poi il primo che rompe il ghiaccio viene seguito a raffica da tutti gli altri quindi so che qualcuno romperà il ghiaccio e poi vedrà che le domande arriveranno ottimo io nel frattempo credo aver assunto un colore giallo non so perché forse la parete rossa dietro di me ma va bene vi assicuro che è un colore normale però c'è rosa cioè non sono così ma sembro malata però vabbè ad ogni modo eccomi qua allora io ho studiato comunicazione e marketing in università statale di milano ho fatto triennale e specialistica ehm avrei potuto fare un master ma ho deciso di fare la specialistica per questioni banalmente economiche eh per cui ho scelto la strada che in quel momento era più corretta per me ho contattato e sono da sempre appassionata di ciclismo e di sport quindi ho iniziato durante il mio percorso di studi a eh avvicinarmi al mondo dello sport marketing ho contattato eh le persone che allora lavoravano in RCS Sport che è la mia azienda ehm per fare una una tesi sul indotto economico de di un evento sportivo in questo caso il Giro d'Italia su su un territorio sulla città di Milano e da lì insomma cose nasce cosa ho iniziato uno stage con loro e ehm dopo dopo sei mesi sono entrata in azienda eh all'inizio mi sono occupata di eventi di ciclismo passatemi in termini minori ma che minori non sono non so se c'è qualche appassionato di ciclismo però sono eventi internazionali ma che non sono non muovono eh economicamente e mediaticamente come il Giro d'Italia eh principalmente occupandomi di marketing offline e occupandomi anche di tutta la parte di brand management che dopo vi racconto successivamente dopo un paio di anni sono stata spostata sul core business dell'azienda che è il Giro d'Italia mh piccolo inciso non so se conoscete il gruppo RCS siamo eh un gruppo editoriale multimediale che edita il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport siamo stati acquisiti da Cairo per cui abbiamo anche la televisione La Sette quindi diciamo che la mia società è la branca di organizzazione eventi sportivi di un gruppo molto più ampio ehm cosa ho fatto negli anni la la cosa principale che è rimasta sempre è la parte di brand management ovvero la cura del logo la cura dell'identità e dei valori del del brand Giro d'Italia ehm e di tutte le sue declinazioni che tra poco vi racconto un po' cosa è successo negli anni come abbiamo l'abbiamo voluto evolvere ehm mi sono occupata sempre di piano marketing e comunicazione ehm mio obiettivo è sempre stato quello di eh comunicare il brand durante tutto l'anno nel senso che per voi il Giro d'Italia mh sarà giustamente un evento che accade in un mese dell'anno magari qualcuno non lo sa nemmeno ma avviene a maggio eh in realtà l'obiettivo del mio ufficio come marketing è quello proprio di creare dei momenti di comunicazione eh per far sì che il brand sia visibile mediaticamente tutto tutto il resto dell'anno quindi non solo durante quel mese e così è nel senso che mh mi occupo di azioni marketing e di presentazioni lanci B2B quindi dedicati a giornalisti a sponsor quindi anche l'organizzazione di eventi piccoli eh o grandi come la presentazione del percorso dove stiamo parlando di novecento persone attendenti fino a magari la presentazione della maglia rosa ehm dove magari ci sono una cinquantina di persone presenti. Cosa significa organizzazione dell'evento? Significa pensare a tutto scouting della location eh gli allestimenti quindi le grafiche eh i contenuti che vengono proiettati i contenuti che vengono mh deliberati su tramite attività di ufficio stampa tramite i social il catering le hostess tutto ciò ovviamente negli anni il mio ruolo si è un po' evoluto eh rispetto all'evoluzione anche della comunicazione io ho iniziato a lavorare nel duemila e dodici eh quindi ormai sono passati dieci anni e mezzo eh e mi dovevo ancora lavorare in specialistica negli anni ovviamente il mio ruolo è cambiato la comunicazione è cambiata eh ovviamente tutto si è spostato sul tanto sulla produzione di contenuto eh quindi il mio essere brand marketing manager si riflette anche sulla produzione di un contenuto che poi è pubblicato sui social sul sito tramite ufficio stampa nei comunicati stampa proiettato in un evento su un contenuto che trasmette i valori del brand e per questo che è in capo a me perché eh io in quanto garante del brand eh Giro d'Italia devo fare in modo che tutto ciò che esce in comunicazione nel Giro d'Italia sia coerente utile ai nostri obiettivi di comunicazione e ehm che sia anche al passo coi tempi nel senso che ehm da da che mi occupavo magari di campagna stampa quando sono entrata a che adesso mh seguo la produzione video la produzione di video che finisce su TikTok piuttosto che quindi capite in dieci anni si è evoluto tanto il mercato della comunicazione e e di conseguenza anche anche il mio lavoro ovviamente ehm vi volevo raccontare nello specifico eh cosa significa lavorare alla creazione di una brand identity ehm e quindi anzi farei partire un sondaggio Giuseppe magari perché sarà un sondaggio sulla style guide volevo capire con voi quanti sanno cos'è una style guide allora partiamo partiamo dal primo quindi chiediamo anche il percorso di studi così sappiamo un po' da da dove da dove arrivate anche voi cosa cosa state studiando avete finito di studiare da poco quindi che percorso di studi fate e lo state facendo e e la seconda appunto poi dopo sulla style guide e allora magari commentiamo anche insieme un po' i risultati perché comunicazione e economia sono già un vantaggio anzi facciamo facciamo telecronaca come se fossimo se stessimo commentando una gara di ciclismo altro beh sarebbe interessante sapere altro magari esatto sì c'è la chat diteci diteci chi ha scelto altro come opzione da che percorso provenite magari anche l'università insomma siamo curiosi di vedere da che posto d'italia siete collegati allora salvatore giurisprudenza e quindi adesso mi incuriosisce questa cosa magari persone che stanno studiando altro esatto comunque sono magari incuriosite dal marketing e quindi in qualche modo stanno approfondendo un po' l'interesse magari chissà un domani riuscirà a iscriversi a un corso di comunicazione e marketing certo anche storie dell'arte beh storie dell'arte tra l'altro ci sono anche dei corsi bellissimi di marketing di storie dell'arte proprio per valorizzare i beni culturali che sono pazzeschi maria teresa ti poi ti consiglio un'esperienza online che abbiamo realizzato con un'esperta di storie dell'arte sempre in ambito marketing ovviamente la inserisco il link per tutti di com'era teresa perché ha scritto storie dell'arte vittorio percorso di laurea in media sede linguistica lì di economia aziendale nilo ingegneria gestionale ha ottimo varie risposte molto variegate io faccio terminare il sondaggio ottimo ragazzi mi piace grazie questa interazione sin dall'inizio e passiamo alla seconda domanda che è quella che eva vi aveva anticipato ecco la data science è interessante per il marketing è la base direi sì io sono sono meno data dati che vedo io mi piace più che altro io in realtà adesso un altro pezzo che non vi ho raccontato eh sono responsabile anche del budget di tutto il giro d'italia marketing ovviamente eh e non solo delle attività che di cui sono direttamente responsabile ma anche di tutta la parte di ehm costi digital quindi sviluppo del sito app social apps eccetera eccetera per cui eh nel mio ufficio stiamo organizzati per cui il brand marketing manager diciamo che dà le linee guida alle altre funzioni all'interno dell'ufficio c'è l'area digital l'area ufficio stampa e con le quali vengono viene comportato anche il budget a disposizione per un certo tipo di attività e quindi il mio ruolo è anche quello di monitorare che il budget del mio brand del mio evento sia ehm rispettato e poi se ci sono delle cose extra vengono vengono valutate allora ottimo il 78 per cento ci dice no ce lo racconti benissimo quindi avremo di che parlare nella prossima i prossimi 40 minuti benissimo sì perfetto allora allora ho fatto questa domanda perché in realtà eh una style guide è mh ai più può sembrare un documento molto tecnico perché infatti eh lo è nel senso che è qualcosa di eh realizzato da grafici per grafici quindi da da graphic designer dall'agenzia che supporta in questo caso il giro d'italia per tutte le persone che poi prendono in mano l'immagine del giro d'italia la devono utilizzare in comunicazione ehm e sto parlando di sponsor città di tappa che ospitano il giro le squadre eh piuttosto che altri partner che mh dialogano con il giro d'italia fanno in modo che la comunicazione del giro d'italia sia anche più ricca perché tutti di a mh comunicano il giro d'italia durante il mese di maggio nel senso che uno sponsor come Enel della Maglia Rosa eh comunica il giro d'italia perché vuole sfruttare il fatto di sponsorizzare un evento sportivo e quindi fa campagna stampa eh fa grafiche nei negozi che sono coerenti con con immagini del giro d'italia ehm dicevo un documento tecnico può sembrare un documento tecnico per per grafici in realtà poi è la bibbia per chi si occupa di brand marketing perché è la base del lavoro e quello che a me piace sempre dire è che il 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 brand marketing manager è qualcuno che è il guardiano del del brand e quindi deve preservare quello che sono i valori quelli che sono eh l'identità chiara di un brand eh quindi deve anche poi ehm nella quotidianità approvare tutti i materiali su cui l'immagine del giro d'italia è applicata e mh approvare e magari fare delle modifiche perché vi posso assicurare che vediamo passare le transità nelle nostre mail delle cose ai caccianti e quindi eh ovviamente se l'immagine del brand viene deturpata può essere intaccato in quelli che sono i suoi valori quindi questo perché è importante eh fare questo tipo di di lavoro vi faccio vedere vi racconto vai pure divido lo schermo vi racconto come è nata la brand identity del giro d'italia 100 e lo vedete su questo documento veramente scarno eh che ai tempi eh stiamo parlando del duemila e diciassette avevo realizzato per avviare una gara tra agenzie creative e l'avevo voluto realizzare il più scarno possibile perché non non volevo condizionare le agenzie grafiche creative che poi si sarebbero dovute trovare eh nella sfida di ehm pensare a una nuova identità del giro d'italia e vi racconto perché mh in sostanza mh avevamo questo logo veramente poco funzionale eh che vedete sulla sinistra talmente poco funzionale per una serie di motivi che sono tecnici che però eh vi li racconto lo stesso un po' perché era nel senso ci posizionava come un evento anni Ottanta nel senso dalle linee da tutto un po' perché era poco applicabile su tutti gli allestimenti e le applicazioni perché aveva questo sfumato tant'è che alla fine usavamo questa scritta che non era un logo non era niente ehm in occasione del giro d'italia cento per cercare anche di celebrare quella che poteva essere quella che è stata un'edizione particolare perché stavamo raccontando la centesima edizione di un evento storico nazional popolare abbiamo ehm fatto partire questa campagna diciamo qua questa scusate questa gara tra agenzie abbiamo coinvolto dieci agenzie grafiche italiane e straniere ehm da PIN Farina Armando Testa alle agenzie che già lavoravano con noi eh dando un brief abbastanza abbastanza preciso ovvero eh il posizionamento del nuovo brand del nuovo marchio doveva avere comunque una PIN internazionale eh doveva posizionarci come un brand e non come un evento nazionale popolare e basta e doveva in qualche modo eh avere una sua identità particolare nel senso che ehm ahimè tra virgolette non ne usciamo dal fatto che siamo un evento di biciclette quindi in qualche modo la bici doveva esserci dentro eh però è chiaro che doveva essere qualcosa di riconoscibile come solo il giro d'Italia ce l'ha ehm e così abbiamo fatto abbiamo lanciato questa questa gara il nostro target di questa nuova brand identity erano principalmente i fan e i nostri tifosi e in seconda battuta tutti i stakeholder coinvolti nell'evento come vi citavo prima gli sponsor le tv i media il città di tappa eh i nostri i nostri simboli mh ve li racconto brevemente non perché magari non li sapete però sono la maglia rosa e il trofe senza fine quello che mi 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 piaceva è che la nuova identità del giro d'Italia potesse rappresentare e riflettere anche questi questi simboli il messaggio che doveva uscire da questa nuova identità era che era il fatto che ok il giro d'Italia compie cento edizioni ehm ma perché è ancora così seguito e amato probabilmente perché si porta dietro una passione e un amore che unisce generazioni diverse diverse nazionalità perché veramente la nostro seguito è sui social soprattutto abbiamo un seguito fortissimo nella Sud America diciamo che il cinquanta per cento della nostra community è italiana e il cinquanta per cento straniera eh per questo noi parliamo quattro lingue sui social parliamo italiano inglese spagnolo francese e in qualche modo questo messaggio questo valore doveva essere un qualche modo anche solo implicitamente ricordato all'interno della nuova identità ehm per il nuova identità cosa si intende? si intende ovviamente fare un refresh del logo che avete visto prima ehm nella soprattutto nella sua forma grafica perché la forma ehm scritta quindi la scritta giro d'Italia è in una fonte che è il carattere della Gazzetta dello Sport la Gazzetta dello Sport è proprietaria e organizzatrice eh tutti gli effetti legale del del giro d'Italia noi diciamo che siamo la l'azienda distaccata che la organizza eh però sono un po' sopra di noi e quindi e siamo tutti parte della stessa famiglia doveva mantenere comunque la scritta con la stessa fonte quindi era abbastanza limitata questa cosa quindi stiamo parlando di un nuovo logo una nuova immagine e dei nuovi elementi grafici che potessero riflettere tutto ciò che vi ho raccontato fino adesso quello cosa è uscito da questa gara è uscito io vi giuro delle cose eh da parte di agenzie famose che non riflettevano secondo noi mh quello che era il nostro vero messaggio e alla fine eh ha vinto l'agenzia che comunque ci seguiva da anni e che conosceva molto bene quali sono i nostri valori che è il nostro DNA e e che ha fatto un lavoro obiettivamente interessante perché aveva un suo un significato ehm questa è l'immagine che abbiamo presentato a Berigine d'Italia Cento ehm dentro ci vedete un ciclista in maglia rosa maglia rosa è il nostro simbolo eh ci vedete che il corpo del del ciclista è un pezzo del nostro trofeo senza fine che come vedete lì dietro è una spirale infinita eh che va verso l'alto e c'era questo concetto di infinito che mh forma le ruote eh che ha stuzzicato un po' il nostro interesse perché da qui è nato tutta la questione di amore infinito questo nuovo claim che ci accompagna dall'edizione cento e che racchiude un po' tutto quella passione quell'amore di cui vi raccontavo prima no che nonostante siano passate cento edizioni ancora spinge le persone andare lungo le strade eh ancora spinge le persone a seguire il Giro d'Italia eh tre sondaggi in effetti non ho detto eh qualcuno ha seguito il Giro d'Italia ma è stato un Giro d'Italia però magari scrivetelo in chat così per me esatto raccontateci un po' il vostro rapporto con il Giro d'Italia eh ma banalmente anche dire no non ho mai visto una tappa esatto no esatto eh infatti questa e poi l'altra domanda che volevo farvi invece è come seguite lo sport se seguite lo sport su che su che su che canali se seguite lo sport rilancio rilancio il sondaggio ecco dai così vediamo questo pezzetto prima di andare avanti perché vi racconto questa cosa mentre rispondete ehm dovete sapere che noi come marketing del Giro d'Italia eh seguiamo e la nostra mission è quella di eh seguire da vicino la comunicazione del Giro d'Italia su tutto ciò che la parte digital social e eh ovviamente l'ufficio stampa tutto ciò che viene passato invece in tv eh diciamo che è eh nel senso noi non abbiamo un controllo editoriale su Rai piuttosto che Eurosport perché vedo anche quei tv quindi immagino eh seguiate magari su su sport o magari da zone eh il calcio piuttosto che ehm perché la Rai ha comprato i diritti sportivi media rights del Giro d'Italia e quindi la linea editoriale è scelta da loro social media perfetto benissimo quindi poi andate a dare un'occhiata al profilo Instagram sì del Giro d'Italia poi magari mi fate anche sapere cosa ne pensate delle grafiche volevo vedere Attilio Attilio scrivi io seguo da anni il Giro e mi appassiona molto ottimo Attilio dai allora prepara prepara la tua domanda così potrei dire ai tuoi amici di aver fatto domanda Eva Valentina mondiale di nuoto e ginnastica ok ecco ad esempio io sono appassionata di ciclismo però mi piace proprio seguire tutti gli sport proprio una cosa però per quello che ho scelto questa strada però di fatto è perché io credo che piccolo piccolo parentesi eh avere l'opportunità di lavorare su fare marketing in un settore sportivo e occuparsi soprattutto di brand e di contenuto eh sia veramente un privilegio perché ti trovi a che fa a lavorare su valori ed emozioni come ti trasmette lo sport che è difficile trovare in altri ambiti quindi devo dire che alla fine ti appassiona tanto cioè al di là del fatto che a me piace però ehm credo che sia proprio un un valore aggiunto poter fare marketing e fare comunicazione su dei valori così forti le commento di Michela esatto caschi occhiali sportivi ok possiamo di Bergamo magari Michela Borsato potrebbe essere un'azienda di Bergamo previso previso no ok ok allora Eva cosa succede alle agenzie creative diciamo a quelle per cui viene rifiutata la la proposta come come funziona in quel momento quando si tocca decidere quale opzione accettare allora eh qui era stato il passaggio era stato questo dieci agenzie hanno ricevuto la gara sono tutte consapevoli che è una gara quindi eh significa che loro lavorano su un concept creativo e mh a loro rischio e pericolo tra virgolette consegnano sia una proposta creativa sia un preventivo una quotazione di lavoro ehm a loro rischio e pericolo nel senso che poi su dieci abbiamo fatto eh una scrematura di due sulle due abbiamo fatto un ragionamento un rilancio per capire quella che ci dava più solidità anche nel lavoro di continuare il lavoro perché poi significa lavorare con un'agenzia tutto l'anno e quindi di fatto le altre non hanno partecipato a una gare come quando uno partecipa a un bando ad esempio e magari produce del del lavoro eh che sia uno scritto che sia mh consapevole che puoi non vincere ecco questo sì ehm cosa ne è stata di questa di questa nuova identità eh abbiamo prodotto delle style guide quelle di cui vi raccontavo prima e che dopo vi vi faccio vedere quindi lascio un attimo da parte ehm abbiamo prodotto un video che adesso non vi faccio partire se no magari non si vede però vi invito a vedere se avete voglia scrivete su 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 google su youtube eh logo giro d'italia cento e vedete il video con cui abbiamo lanciato un video in 3d mh in cui abbiamo lanciato il nuovo logo e spiegava proprio tutta la storia delle delle cento edizioni e come siamo arrivati a eh individuare quegli elementi grafici che sono al momento nella nostra nella nostra identità abbiamo lavorato anche a un video che potesse raccontare quello che è per noi l'amore infinito quindi abbiamo scritto un video con diversi personaggi ognuno che mostrava la sua passione diversa per il giro d'Italia abbiamo creato un pacchetto grafico nuovo per le tv che eh trasmettono il giro d'Italia per essere sicuri che quello che è da noi governabile o almeno l'immagine eh tutti sotto pancia delle tv di tutti i cronometraggi tutti i loghi che comparivano dovevamo essere sicuri che fossero allineati a alla nostra alla nostra nuova identità abbiamo fatto una campagna stampa multisoggetto ovviamente altri materiali questa è la campagna stampa multisoggetto che raccontava l'amore infinito eh queste ad esempio sono le grafiche tv ehm che poi sono passate a tutte le a tutte le i procaster diciamo queste grafiche tv le ha prodotte l'agenzia giusto sempre l'agenzia sì ovviamente è un lavoro tutto ciò che vedete è un lavoro di mio con l'agenzia di brief cioè io passo l'agenzia un brief dico ho bisogno di lavorare questa cosa devo dare un concept e quali sono i miei obiettivi l'agenzia fa delle proposte poi insieme lavoriamo ehm alla alla produzione dello stesso ovviamente ad esempio per quanto riguarda le grafiche tv è stato un lavoro fatto a quattro mani con un collega che si occupa di diritti tv ehm però ecco questo era solo per dirvi che da una nuova identità di brand a cascata possono eh cioè deve essere declinata in tutto ciò che riguarda la comunicazione del brand nel senso che non è solo il nuovo logo e va bene così eh ci sono delle linea guida per gli allestimenti un field dell'evento ci sono delle linea guida per tutto ciò per la comunicazione possono nascere delle dei nuovi video che raccontano che cos'è questo nuovo claim amore infinito eh le grafiche tv le campagne questo per raccontarvi che una comunicazione integrata deve essere integrata veramente nel senso che quando si parla di comunicazione integrata significa che tutto ciò che riguarda il brand come viene comunicato il brand deve essere coerente tra di tra tutti gli output coerente rispetto alla all'identità iniziale e in qualche modo mh non posso comunicare il giallo quando il giro d'italia è rosa adesso adesso vi ho fatto l'esempio più esempio eh stupido però è importante perché altrimenti poi ognuno fa quello che vuole soprattutto nel nel caso in cui come nel mio brand tanti prendono in mano l'identità del giro d'italia e possono tra virgolette farne quello che vogliono se se non li non vengono limitati quindi a questo proposito vi faccio vedere cos'è la style guide riporto sopra questo la style guide come vi dicevo prima è uno strumento se faccio così vedete lo stesso sì ok vediamo schermo intero perfetto meglio non so dove mettere questa cosa ma la lasciamo qua la segale è quel documento che vi dicevo prima nella style guide sono racchiuse tutte le indicazioni grafiche di come utilizzare il logo innanzitutto si scarica il logo come può essere utilizzato il logo c'è una dimensione minima per la stampa non può essere ovviamente cambiato il colore non può essere strecciato non può essere inclinato tutta una serie di indicazioni che vi sembreranno cioè normale è chiaro che invece non è così vi assicuro che poi bisogna veramente fare da non solo guardiano del brand ma a volte la cane da guardia nel senso che vediamo delle cose veramente che non sono rispettose poi per quello che stiamo raccontando no quindi quello che avete visto che era l'immagine del giro d'italia 100 era grigia e rosa tre anni fa abbiamo deciso che a livello di comunicazione dell'evento sportivo il nero era più aggressivo e quindi ci consentiva anche una comunicazione più attrattiva sui social e quindi abbiamo caricato di molto rosa e carica e reso il grigio nero sempre in questa style guide oltre a diverse versioni del logo con la data col payoff eccetera questo è come i sponsor devono usare il logo del giro non posso usare il logo da solo perché perché immaginate uno sponsor che fa una campagna e usa il logo del giro d'italia e non questa che noi chiamiamo gabbia logo costituito sponsor maglia rosa potrebbe sembrare che la campagna che ha fatto è una campagna del giro d'italia e invece no nel senso che il giro d'italia ha una sua campagna e lo sponsor deve avere la sua i colori i colori con una classificazione che non so se conoscete quadricromia che può essere per alcuni tipi di stampa rgb che per tutti i materiali digital e video e social insomma e la classificazione in pantone cioè qui vedete come il rosa del giro è declinato nelle tre diverse classificazioni nel senso che non tutti i fornitori mh conoscono mh stampano in pantone non tutti i fornitori stampano eh o producono materiali in comunicazione in quadricromia eh cm yk è la quadricromia rgb è quella della di tutto il rosa di come deve essere visto a video e il pantone è come viene stampato su mh principalmente magari il merchandising per cui felpe e magliette eh piuttosto che allestimenti un field questa parte qua se non è chiara chiedetemi pure perché magari scrivete in chat perché magari non è per chi non la massica tutti i giorni potrebbe non essere eh semplice eh il font qui spieghiamo il font che deve essere usato quando si comunica al giro d'Italia si scarica eh qui qualche applicazione i nostri simboli questo il trofeo il nostro trofeo ovviamente stilizzato che può essere utilizzato in comunicazione e e via dicendo insomma mh questa nostra mascotte in sostanza tutte le persone che ricevono questo documento sono le persone che hanno acquisito il il diritto di comunicare il giro d'Italia in un certo modo e ehm producono i materiali che poi passano a me per approvazione e qui direi che ci siamo c'è qualche domanda sulla style guide? Allora eh Attilio ti chiede se nella creazione del periodo editoriale e della ehm creazione dei contenuti da pubblicare vi basate sull'analisi dei vostri competitor ovvero il tour e vuelta. Sì allora intanto che interrompo un attimo allora mh sì ovviamente il nostro riferimento eh nel ciclismo è il tour perché il principale competitor ehm in realtà noi guardiamo tanto anche in generale come viene la comunicazione sportiva eh di alcuni brand che con lo sport comunicano tanto e comunicano molto bene nel senso che mh il nostro benchmark ad esempio della comunicazione ehm su certi tipi di lavori soprattutto sulla parte di brand management di brand identity ehm magari non è il nostro diretto competitor che il mh il giro di nel tour de France però eh è chiaro che mh a livello ad esempio di produzione video durante l'evento loro hanno delle facilities rispetto alla alla produzione tv delle immagini quindi hanno delle eh un modo di acquisizione delle immagini diverso più immediato del nostro noi ci stiamo lavorando stiamo andando in quella direzione eh tali per cui magari hanno subito delle immagini molto più mh velocemente di noi e quello è un tipo di comunicazione che guardiamo con con importanza però ad esempio se devo rispondere alla tua domanda rispetto a chi guardiamo eh io personalmente guardo tanto come comunica Formula 1 eh guardo tanto come comunica Red Bull sulla parte di eventi sportivi ehm su certe produzioni video guardo tanto come comunica ehm quindi non mi focalizzo a competitor del settore ciclismo perché ehm rispetto ad altri sport sicuramente il ciclismo è ancora indietro in termini di comunicazione il nostro obiettivo è proprio quello di svecchiare il ciclismo e fare in modo che il Giornitalia sia un evento figo anche per i ragazzi ehm e se andate a fare un giro sui social eh su Instagram su TikTok il nostro obiettivo è quello nel senso che mh e qui arrivo all'altro punto di cui volevo parlarvi il mio lavoro si è spostato tanto sulla parte di produzione contenuto per cui come il contenuto che viene veicolato sulle piattaforme social e digital eh è in qualche modo eh riflette il brand rispetto al brand e eh e quindi lavoro a stato contatto con agenzie video ehm e fotografi eh per cui tutto ciò che poi viene pubblicato o lo produco io oppure lo produco uno dei collaboratori sotto in cui lavoriamo a quattro mani con anche l'area digital e quindi è un lavoro che si sposta tanto in quella direzione e quindi se devo pensare a come comunicare non è più come comunico ovviamente su una carta stampata ma è come comunico lato video su sui social cioè principalmente quello ehm tanto del nostro budget è dedicato è dedicato a questo eh l'altra domanda scusami che c'era sì è Valentina che tra l'altro apprezzato molto la comunicazione dell'evento che avete poi messo giù e ti chiede quali sono le difficoltà che riscontrate maggiormente durante appunto le varie fasi del progetto allora eh la difficoltà maggiore ma in realtà eh allora risiede del fatto che lavoro su un evento e quindi spesso eh ci sono delle dinamiche eh tali per tali per cui ci sono degli imprevisti e quindi una soft skill importantissima che che dovete avere se lavorate negli eventi è comunque avere eh flessibilità e problem solving eh e quindi questo è quello che può succedere e che ti fa dire ok cambi le le carte in tavola nel questo è un po' però relativo a lavorare sugli eventi eh lato brand la difficoltà magari oggettiva è lavorare su un brand che ha una sua storia e quindi in qualche modo non può essere ehm non può essere stravolto e deve rispettare certe 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 linee guida perché eh stai parlando con qualcosa che esiste da cento anni e che speriamo esista per altri cento ed è ed è di proprietà quasi della nazione nel senso che magari qualcuno a volte mi chiedono ah ma non sapevo che è organizzato da un'azienda privata al giro d'Italia e in effetti sì nel senso che è organizzato da da un'azienda privata le sue logiche economiche però ehm lavorare su un brand del genere ha i suoi oneri e onori nel senso che da una parte eh sei privilegiata di lavorare su un brand che ha un sacco di patrimonio eh di valori eh ovviamente su cui puoi lavorare dall'altra parte devi prendere tutto con molta delicatezza eh questo sì ehm volevo parlarvi di lanci del lancio di una velocemente visto che vai pure tra l'altro a proposito di sport mi hai fornito un assist perfetto prima perché eh abbiamo in programma per la prossima settimana anzi tra una decina di giorni un'esperienza online sul problem solving in azienda quindi come svilupparlo al meglio vi ho inserito il link ragazzi eh trovate tutte le informazioni lì e potete potete già iscrivervi ottimo volevo raccontarvi come abbiamo lanciato una cosa un po' particolare eh ovvero ok non si vede eh nel duemila e venti eh abbiamo avuto per la prima volta al giro d'Italia un campione che si chiama Peter Sagan eh per farvi un paragone un po' come se fosse il Cristiano Ronaldo del del ciclismo ok in termini di notorietà in parlo ed era la prima volta che correva il giro d'Italia nel senso che aveva sempre scelto di correre il Tour de France per motivi di sponsor eh quindi nasceva l'opportunità e l'occasione di comunicare il fatto che Peter Sagan facesse il giro d'Italia l'obiettivo era comunicare questa cosa senza penalizzarci rispetto ovviamente al al fatto che non fosse mai non avesse mai partecipato al giro ma anzi dando valore a questa sua partecipazione il nostro target principale erano i tifosi eh perché era una comunicazione prettamente B2C eh avevamo definito un budget per una campagna video che potesse sostenere questa mh questo questo lancio di comunicazione e ehm il concept è partito da me e poi è stato sviluppato insieme con l'agenzia che ha ha gestito eh la campagna video in sostanza quello che ci siamo inventati è che eh Peter Sagan che di per sé è un personaggio istrionico del mondo del ciclismo nel senso che è molto divertente eh aveva già fatto video molto spiritosi in passato aveva eh fatto tipo un balletto di grise con sua moglie aveva fatto un sacco di visualizzazioni quindi si prestava molto come personaggio un certo tipo di comunicazione eh in sostanza lui non aveva mai partecipato al giro d'Italia perché in realtà voleva parteciparvi solo quando era si sentiva al cento per cento pronto al cento per cento pronto in tutte quelle che sono eh le le eccellenze e i talenti propri dell'Italia del Made in Italy quindi cosa ci siamo inventati ci siamo inventati questo quattro episodi video in cui eh lui dopo finalmente eh tanti anni di studio e di preparazione su la cucina italiana eh l'arte eh la moda e la musica eh finalmente eh era pronta per il giro d'Italia quindi abbiamo realizzato questa campagna mh video uno shooting che è durato un giorno e mezzo con otto location per cui io per un mese e mezzo ho organizzato solo questa cosa insieme con l'agenzia perché è stata una follia eh in sostanza lui era alla fine a Coteca di Brera e faceva eh il super esperto di arte siamo stati l'abbiamo fatto cantare sotto una doccia e poi l'abbiamo portato alla scala a fare il tenore gli abbiamo fatto cucinare la pasta col tonno e in sostanza eh redarguiva un 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 turista che metteva il formaggio sulla pasta sul tonno l'abbiamo fatto diventare un un cuoco e siamo eh scusate un un sarto e l'abbiamo fatto girato nell'atelier di Ermene Gindo Zegna e se adesso vorrei se avete curioso se fosse curiosi magari andate a vedervi anche stasera anche solo uno quello della fine a Coteca che è il più bello eh cercate Peter Sagan Giro d'Italia dura dura molto perché se vuoi possiamo provare a condividerlo ah ma magari non si sente bene mi spiacerebbe durano veramente poco ed è solo da ascoltare tutti guarda provo provo a cercarlo subito su YouTube sì dai magari metti il link così la gente lo lo vede magari poi se lo guarda e abbiamo lanciato questa campagna in occasione del del lancio del nuovo sito del Giro d'Italia per sostenere da una parte il sito del Giro che in qualche modo ha un po' di traffic sul sito eh perché sapevamo che attorno a sé ehm si portava dietro un sacco di attenzione mediatica abbiamo rilasciato un episodio a settimana e eh a livello di comunicazione eh integrata cosa abbiamo fatto abbiamo rilasciato ogni ogni inizio di settimana un comunicato stampa con all'interno il video e le foto sui social ogni settimana usciva il video ovviamente le foto di backstage come teaser prima del video in sé e poi abbiamo fatto questo per quattro settimane e alla fine abbiamo fatto un episodio di backstage con tutti gli errori e le cose divertenti che sono che sono uscite fuori e mh questa questa campagna che abbiamo realizzato che aveva un suo decorso e dei suoi obiettivi eh di per sé per noi era una una campagna pura di comunicazione su cui non c'eravamo dati eh KPI importanti eh però abbiamo realizzato 5 milioni di video views in totale tra sito social e tutte le piattaforme social del Giro d'Italia e e quindi è funzionato molto bene questo anche per dirvi che ehm noi solitamente ci diamo dei KPI soprattutto durante l'evento eh KPI ovvero tutti quei dati che servono per monitorare quanto stiamo andando bene eh su certe campagne di comunicazione che facciamo li valutiamo soprattutto durante l'evento e riguardano da una parte gli utenti unici e le visite al sito dall'altra parte abbiamo dei KPI e dei dati che teniamo monitorate durante l'evento lo stesso che riguardano le video views sui social le impression sui social e la reach ehm quindi durante l'evento abbiamo dei KPI mh abbastanza pissi e se e che mh cerchiamo di aggiustare con anche della pay adb nel caso vediamo che non la raggiungiamo di determinati obiettivi. in questo caso mh era un'attività di pura comunicazione eh quasi di brand awareness nel senso di awareness del fatto che Sagan fosse al giro d'Italia e mh e che venisse raccontato soprattutto in maniera positiva il fatto che lui non 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 avesse mai partecipato perché poteva essere un boomerang e e devo dire che i risultati sono sono arrivati molto molto felici di questo ci sono delle domande forse qua ah hai messo perfetto hai messo il link sì sì guarda se vuoi possiamo provare a condividerlo ho aperto YouTube che ne dici ok aspetta chiudo allora sì ci proviamo proviamo eccolo qui vedete il mio schermo giusto quello che spiega è l'uso drammatico e teatrale della luce che risalta la sacralità del momento raffigurato questa opera del 1504 esprime a pieno le riflessioni di Raffaello che intendeva la bellezza come ordine astratto di rappresentazione geometrica e cosa dire di quest'opera Antonio Penova vuole raffigurare l'omuleone in veste di Marte coniugando la fisionomia del viso alla resa di un corpo completamente ideale e classico scusa ma quante volte hai già fatto il giro? giro? eh no no prima volta devi sapere che il giro di Italia fu corso per la prima volta nel 1909 bello poi ecco quando c'era il start c'era anche Sala che ha fatto il cameo comunque andate a vedervi tutti sono quattro episodi sono dritti però sono simpatici dai quindi questo anche per dirvi che l'ananesi dei dati è fondamentale per chi vuole fare questo lavoro e secondo me rientra un po' in quelle che sono le hard skill di chi vuole fare questo lavoro perché è vero che è molto creativo come avete visto tra le cose che vi ho raccontato però senza dati non si va da nessuna parte e se non ci poniamo anche degli obiettivi quindi poi si fa fatica anzi quindi anche chi sta facendo il master in data science secondo me è predisposto comunque per lavorare nel marketing relativamente sempre parlando un po' di hard skill quello che vi suggerisco è di rimanere sempre aggiornati su quelli che sono le nuove format di comunicazione di contenuto quelli che sono i trend e cosa funziona sui social perché entrare in determinati trend può fare la differenza in certi in certi tipo di comunicazioni e quindi saperne tanto anche di social media marketing nel senso che io l'avevo studiacchiato un po' all'università però appunto tanti anni fa, dieci anni e mezzo fa di più e quindi non era ancora così sviluppato tra parte di social media marketing e l'ho acquisita tanto lavorando ed è fondamentale per il mio lavoro che non è solo logo ma come avete visto è tanto anche produzione e contenuto come soft skill ovviamente la creatività va da sé nel senso che chi lavora nella comunicazione e nel marketing dovrebbe essere un po' creativo poi ci sono anche delle agenzie che li supportano per carità però secondo me se avete una buona base siete avvantaggiati province holding l'abbiamo già detto e secondo me fa tanto anche lavorare in team nel senso che io lo vedo nel mio settore lavorando sugli eventi è fondamentale lavorare in team perché se no non ti porti a casa il risultato spesso soprattutto quando sei sull'evento on field però anche lavorare in ufficio lavorare a quattro o sei mani con i colleghi a volte escono delle idee che anche in brainstorming possono fare la differenza ecco quindi questo è quello che mi sento di consigliarvi una cosa su cui in qualche modo sono io lo ripeto sempre anche in ufficio i miei colleghi quando magari qualcuno inizia a dire la sua su una campagna di comunicazione su un logo, su un video il nostro non è un lavoro di soggettività cioè il logo non è bello il video non è bello e la campagna non è bella la campagna è efficace e funziona e oggettivamente è efficace perché risponde a determinate linee guida che rispondono all'obiettivo che mi sono dato in comunicazione perché parla al target che volevo perché usa rispetto al brand usa i valori del brand i simboli del brand e perché trasmette bene il messaggio e perché magari è applicata sui canali corretti non è un lavoro soggettivo quello del marketing purtroppo spesso arrivano magari da altri uffici da altre aziende ma perché non facciamo la campagna così non facciamo il logo così per fare marketing bisogna essere preparati bisogna avere anche voglia di piccarsi ma non è un lavoro soggettivo ecco questo ci tengo a dirlo perché poi è una lotta mia personale tutti i giorni ah ma che bella la campagna no non è bella la campagna cioè non mi fai un complimento se mi dici che la campagna è bella dici se funziona adesso siamo arrivati un po' all'ultimo quindi non faccio il tempo per farvi vedere come abbiamo lanciato il percorso del Giro d'Italia di quest'anno però abbiamo voluto puntare tanto sulla valorizzazione del territorio per cui se avete poi voglia di andare a vedervelo abbiamo fatto un video percorso molto improntato su immagini wow con droni da corsa che girano sulle montagne le salite del Giro d'Italia 2023 è molto emozionante ed è un modo nuovo di presentare il percorso che abbiamo fatto l'abbiamo presentato il 17 ottobre e così è insomma io ho fatto questo percorso l'ho fatto un po' in autonomia ho studiato all'università e poi ho trovato l'aggancio giusto nel senso che sono entrata in contatto facendo una tesi con le persone giuste e quindi poi mi è stata data l'opportunità di crescere e di entrare in azienda ad oggi ci sono tanti corsi di marketing comunicazione molto buoni e secondo me vale la pena tenerli in considerazione nel mio gruppo tra l'altro abbiamo un academy che si chiama RCS Academy che fa tanti master anche relativamente allo sport infatti tanti miei nuovi colleghi sono entrati in stage grazie a questo master che comunque da insomma è sempre fare un master con la possibilità di stage è sempre un buon modo per entrare in azienda qualsiasi master ovviamente quello che vi dico è se vi piace questa cosa studiate preparatevi perché un buon brand marketing manager deve essere preparato sul suo e poi buttatevi nel senso che il mercato è in fibrillazione nel senso che ci sono tante opportunità secondo me basta buttarvi ovviamente essere un po' anche fortunati a volte però incontrare l'azienda giusta a volte fa la differenza Eva io ti ringrazio tantissimo per ringraziarti leggo il commento di Valentina a cui insomma il nostro incontro è piaciuto molto a lei il marketing piace e tra l'altro insomma stupisce sempre l'evento del Giro d'Italia che tra l'altro è storico e fa un po' parte di tutti noi ed è un gran esempio di come si fa una buona comunicazione insomma ce l'hai dimostrato è vero abbiamo detto anche io ho detto che è bello però penso che funzioni anche no non volevo dire no e poi ovviamente se funziona lo dicono i numeri e lo dicono gli interlottori io volevo tornare un attimo a una cosa che hai detto prima cioè il fatto che tu ti ispiri alla Formula 1 io ho notato sono appassionato di Formula 1 ho notato che la comunicazione della Formula 1 è cambiata molto negli ultimi anni e l'obiettivo era quella di avvicinarla ai cosiddetti nuovi giovani mettiamola così quindi nuove generazioni è la strada che mi pare stia seguendo anche il ciclismo quindi bene il fatto che insomma tu ti hai insomma in mente quella via lì che non significa copiare la Formula 1 ma significa anche prendere spunto da comunicazioni che magari provengono da posti diversi sì esatto nel senso che guardarsi attorno guardare il mercato cosa fanno gli altri è comunque fondamentale per il nostro lavoro perché ti consente di lasciarti ispirare poi magari di prendere un'ispirazione calarla sul tuo sul tuo thread e magari produrre qualcosa di altrettanto bello magari anche più bello la Formula 1 nella fattispecie sta facendo un grande lavoro in termini di produzione contenuto e sui social che secondo me funziona e quindi è quella un po' la nostra direzione ogni anno cerchiamo di aggiungere un pezzo ormai sono due anni che abbiamo questa collaborazione molto stretta con TikTok che ci ha portato a grandissimi risultati in termini di video views e di nuovi tifosi magari che ti avvicinano al giro anche solo perché vedono un balletto dei ciclisti su TikTok però significa che comunque il nostro lavoro lo stiamo facendo ovviamente c'è una strada lunga perché attualmente il ciclismo è ancora visto troppo spesso in una maniera magari con un taglio un po' arcaico e il nostro obiettivo è quello di comunicarlo nella maniera che nella maniera che si che si merita perché il Giornitalia è un evento molto divertente molto figo se non siete mai stati al giro vi invito a venire sulle strade del prossimo giro e magari a scrivermi mi scrivete su LinkedIn almeno ci salutiamo perché è divertente ed è anche l'immagine che viene passata se tu lo vivi live o lo segui sui social secondo me ti fa la differenza ti fa già capire un po' che cos'è di più rispetto magari a vedere capisco cinque ore di tappa in televisione sul divano che magari uno si addormenta ma perché di per sé può essere a volte un po' a tratti noioso però è dall'altra parte adrenalico ed è un evento proprio per tutta la città per cui è più un'esperienza che un evento sportivo e basta allora io ti rubo giusto un altro minutino nel caso in cui insomma arrivi qualche altra domanda anzi insomma approfittate di questa parte finale se non arriva un'altra domanda e la domanda te la faccio io e cioè obiettivi futuri di Eva dove dove ti vedi tra qualche anno magari se hai qualche sogno nel cassetto in ambito marketing che vorresti realizzare prima o poi allora tra qualche anno allora a me piace lo sport e mi piacerebbe rimanere ovviamente nel settore sportivo però in linea generale diciamo che come prospettiva mi piacerebbe intanto avere magari un ruolo più alto più di responsabilità ancora di più rispetto a quello che ho adesso perché come aspirazione professionale ovviamente intendo e nel frattempo io vado avanti a coltivare anche delle mie passioni personali per cui sto studiando storie anche se non c'entra nulla né col marketing né con lo sport e mi sono iscritta la seconda laurea così dai allora in bocca al lupo qual è uno sport che secondo te può esplodere da quei prossimi anni magari anche grazie ai contenuti social allora guarda secondo me c'è una community fortissima e che ancora non ha espresso tutte le sue potenzialità su basket ok perché poi si porta dietro anche una cultura una cultura underground particolare quindi mi piacerebbe non mi stupirei se il basket inizi a fare qualcosa a me piace tantissimo anche il rugby e spero sempre che insomma la nostra nazionale italiana possa vincere qualcosa da sei nazioni anche se siamo un po' insomma indietro rispetto ad altre nazioni però io ecco se dico mi aspetto il basket ma spero anche il rugby Attilio scrive in realtà un messaggio diretto a me quindi non lo vedete però immagino ovviamente è aperto a tutti cosa ne pensi del padel allora il padel secondo me è molto divertente è sì una pratica sportiva non è nel senso non lo chiamerei per me lo sport è più il tennis però secondo me sta facendo avvicinare tante persone alla pratica sportiva e magari anche perché no al tennis io l'ho provato non sono particolarmente portata però sta avendo un sacco di esplosione infatti sta trascinando tanto anche la federazione italiana di tennis in questa nuova avventura perché fa parte della federazione italiana ci sono secondo me delle discipline sportive che stanno spopolando un po' per moda un po' per moda soprattutto magari nei centri urbani più importanti per cui tra cui il padel oppure anche avere la bici un po' fighetta passatemi il termine funziona ecco però ecco del padel non ho ancora visto una comunicazione è più praticato che altro nel senso non ho visto un brand una comunicazione definata su quella parte lì magari diamo lo spunto alla federazione tennis è una domanda di Vittorio che secondo me potrebbe interessarti molto allora la questione climatica sta pian piano avvicinando molti giovani alla mobilità sostenibile come vi state muovendo in termini di promozione del brand per sfruttare al massimo questa opportunità allora in questo senso grazie per la domanda Vittorio nel senso che su questo filone noi abbiamo attivo una serie di progetti che cercano di andare in questa direzione della sostenibilità il primo tra tutti è BC Scuola che è un programma di educazione di edutainment noi chiamiamo perché è divertimento educazione insieme che dedichiamo a tutte le classi delle scuole primarie delle città di TAP del Giro d'Italia quindi tutti i bambini elementari che si iscrivono al progetto chiamavano i 50.000 bambini delle città di TAP del Giro quindi partenza e arrivo mandiamo un kit nelle scuole dove parliamo di sostenibilità ambientale della cultura della bici perché è importante usare di più la bici che invece spostarsi in auto parliamo anche di educazione alimentare legata allo sport ed educazione stradale quindi questo primo progetto che risponde un po' a questa esigenza abbiamo avviato da sei anni un progetto che si chiama Ride Green che è la raccolta differenziata nei villaggi commerciali nelle aree hospitalite del Giro d'Italia può sembrare banale ma non è come fare raccolta differenziata in uno stadio in un palazzetto dello sport noi siamo letteralmente in mezzo alla strada ma ci siamo arrivati nel senso che l'abbiamo organizzato ed è qualcosa che funziona e che ogni anno premiamo poi le città di TAP più virtuose dove abbiamo fatto più raccolta di rifiuti e non da ultimo da un tre anni abbiamo il Giro E che è questa esperienza su biciclette a pedalata assistita che può essere fatta prima che viene fatta è un'attività di PR B2B per cui è aperta ai aziende sponsor che invitano persone e che percorrono la tappa del Giro su bicicletta pedalata assistita in ottica comunque di promozione del movimento e della sostenibilità rispetto ad utilizzare altri mezzi è un percorso lungo nel senso che anche a livello di gruppo come RCS stiamo cercando di capire quali sono le azioni più utili sicuramente queste tre le porteremo avanti e se non ci fanno di capire come migliorarci ancora su questa parte ottimo grazie mille per la risposta da parte di Vittorio Eva è stato un piacere conoscerti un piacere portarti qui su Tutored mi ha insomma mi ha fatto piacere ascoltare la storia del Giro Italia 100 un po' come funzionano le dinamiche dietro le quinte delle tue giornate tipo grazie a voi grazie a voi di tutto e in bocca al lupo allora ragazzi domani riceverete una mail con il link per recuperare la registrazione e poi magari se Eva appunto ci gira anche i dettagli del master di RCS per chi è interessato ovviamente può ricevere anche quello e insomma ci vediamo anche nei prossimi giorni qui su Tutored su Zoom su Tutored ciao Eva grazie buona serata ciao grazie a tutti ciao a tutti grazie